Ma intanto vale il principio che abbiamo bisogno dei vaccini per sconfiggere il virus e quindi il vaccino va preso ovunque sia collocato, qualunque sia la nazione o la casa farmaceutica che lo produce, fermo restando i controlli, io non è che sia contrario ai controlli, chi è che potrebbe esserlo? Però mi pare che questi controlli stiano mettendo in evidenza una sorta di atavica debolezza da parte dell'Europa, quando l'abbiamo chiamata eurocrazia, cioè un'Europa dirigista, burocratica, dove non si capisce niente, ci sono mille passaggi farraginosi, io penso che questa realtà, la triste realtà di questi giorni testimoni la bontà, ahimè, la giustezza di quelle osservazioni. A noi piacerebbe che ci fosse un'Europa un po' più dinamica e anche questo penso che sia una banalità, solo che quando lo dicevamo eravamo accusati di essere dei sovranisti pericolosissimi che volevano comunque collocare l'Italia fuori dall'Europa, cosa mai detta e che non è sicuramente auspicabile da parte nostra, invece oggi ci dobbiamo arrendere all'evidenza, l'Europa va riformata e rifondata. Detto questo, che cosa farei? Intanto che cosa avrei fatto? Perché la cosa che francamente mi lascia molto molto perplesso è che si continua a ragionare su ciò che abbiamo di fronte nell'immediatezza, come se avessimo perduto una capacità di programmazione che era rinomata da parte della nostra gente, insomma, nelle varie epoche storiche noi siamo stati comunque capaci di una grande cultura organizzativa e di una grande capacità programmatoria. Adesso parliamo sempre e soltanto di quello che serve per domani mattina. Probabilmente se io avessi avuto un ruolo di responsabilità nei mesi precedenti, per esempio, mi sarei preoccupato di rendere possibile la produzione del vaccino una volta arrivato, perché si sapeva che presto o tardi la ricerca avrebbe condotto alla nascita di un vaccino efficace per sconfiggere il coronavirus, avrei messo la nostra industria farmaceutica immediatamente, pur in assenza di un vaccino, nelle condizioni di produrre il vaccino per il bene dell'Italia, per il bene dell'Europa, per il bene del mondo. Perché non è che il vaccino se uno ce l'ha se lo tiene, è ovvio che in una comunità solidale, internazionale, chi ha capacità produttiva poi deve essere tra virgolette generoso, oltretutto è anche conveniente perché il vaccino immagino che si venda e quindi comunque chi ne ha la capacità produttiva ne ricava anche ahimè un vantaggio.